Il Consiglio regionale della Toscana nella prima seduta dell'anno 2022 ricorda la figura del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, morto l'11 gennaio scorso. Dopo gli interventi politici il videomessaggio proprio di Sassoli che inviò all'Assemblea Toscana in occasione della seduta solenne per la festa dell'Europa lo scorso 11 maggio. Infine si è posta una rosa bianca sulla bandiera europea posta proprio al centro dell'aula, un segno dei valori che portava in sé il Presidente scomparso. David Sassoli amava la Toscana, David Sassoli ci ha sempre mandato dei messaggi importanti, dei messaggi forti su quella che deve essere l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa in cui si riduca le ingiustizie, un'Europa attenta agli ultimi. Ecco ad un grande uomo, ad un grande giornalista, ad un grande politico, ad un grande uomo delle istituzioni noi abbiamo deciso tutti insieme senza distinzione di colore politico di dedicare il nostro nuovo Media Center e oggi in aula sulla bandiera dell'Europa posta al centro della nostra aula assemblea legislativa abbiamo deciso di mettere una rosa bianca che era il segno di quando Sassoli da ragazzo combatteva contro ogni forma di discriminazione ed era il modo per ricordare quei gruppi di ragazzi che combattevano i nazisti, un segnale forte e chiaro qual è la parte giusta della storia da cui stare. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente della Giunta Eugenio Gianni e il portavoce di opposizione Marco Landi sono i grandi elettori della Toscana che dal lunedì 24 gennaio a Roma parteciperanno all'elezione del Presidente della Repubblica. I grandi elettori, come da tradizione, sono una rappresentanza sia dei gruppi di maggioranza, due, che delle opposizioni, uno. Mazzeo è stato nominato con 27 voti di preferenza, Gianni con 25 e Landi con 13. Ha ricevuto due voti anche Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle, registrata infine una sola scheda bianca. Una votazione molto corretta, molto leale. Sono state rispettate, direi, proprio quelle che sono state le proposte fatte. Noi, come maggioranza, abbiamo proposto, come grandi elettori per la Toscana, i due massimi livelli istituzionali, il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio. Questa è una consuetudine, ma siamo convinti anche di aver fatto una proposta di alto profilo che è stata apprezzata da tutto il Consiglio, tant'è vero che la votazione è stata veramente molto compatta. L'auspicio è che ci sia in Parlamento la capacità di individuare una figura che sia il garante dell'unità nazionale e del prestigio dell'Italia in Europa e nel mondo. L'espressione dei grandi elettori delle Regioni sono un segnale di continuità tra Roma e il territorio, e l'intero suo territorio, che i padri costituenti hanno voluto consegnarci, con l'impegno di garantire la rappresentatività, che è un fattore fondamentale, qualcosa che la nostra Costituzione sottolinea in ogni suo passaggio, oltre alla rappresentatività e anche quella dell'inclusione. In questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consigliare, consegnando a lui questa fiducia, e dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere anche l'espressione della totalità di quelli che sono i cittadini toscani. E questa totalità riguarda per la metà donne, donne che fra i tre rappresentanti che andranno a eleggere il Presidente della Repubblica non sono espresse. E dispiace che nessuno si sia voluto far carico di questo, neanche il Partito Democratico. Questo lo sottolineo proprio perché secondo noi è una frattura grave anche di fiducia per quanto riguarda la rappresentatività. Per il resto, come scelta, non potevamo fare altro che oltre a dare un'indicazione per chi noi vorremmo vedere rappresentato alla carica più alta e più rappresentativa dello Stato, abbiamo voluto dare anche un segnale, non votando per il portavoce dell'opposizione, che formalmente non ci rappresenta in quanto non ha avuto il nostro voto, anche perché non lo ha cercato, abbiamo voluto anche dare un segnale chiaro che per noi non sarebbe stato possibile mandare a Roma nessun rappresentante che intendesse votare candidati che per noi sono assolutamente non idonei a ricoprire la più alta dignità del nostro Paese. Credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli ruoli, quindi tre figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Regione Toscana, tutti i propri elettori e la Toscana sarà partecipe di un'elezione, a mio avviso, di un Presidente della Repubblica che possa essere, come abbiamo chiesto in aula, europeista, garante delle istituzioni, garante dell'unità nazionale, ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo. Una grande figura istituzionale e abbiamo piena fiducia e diamo mandato, quindi tre grandi elettori della Regione Toscana, di rappresentare tutti noi come Consiglio regionale per conto nostro, tutti gli elettori della Regione Toscana. Nella fine il centrodestra ha dimostrato ancora una volta di anteporre l'interesse politico all'interesse personale e il voto a Marco Landi ha testimoniato questo. Quindi un grande bocca al lupo a Marco e che rappresenterà sicuramente tutto il centrodestra toscano in sede di elezione del Presidente della Repubblica. È stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25, componenti la maggioranza, i 23 del PD e i due d'Italia Viva. Quindi per me è davvero una grande e bella soddisfazione. Sento la responsabilità perché lunedì 24 di gennaio noi avremo per la prima volta la sera alle 19, è già calcolato il momento in cui i tre grandi elettori della Toscana sono chiamati al voto, la possibilità di esprimerci. Io spero che in Parlamento si determini non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il Presidente della Repubblica, ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare, come dice la Costituzione, l'unità del Paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo e di parlamentare o di grande elettore. Un grande onore e una grande responsabilità andare a scegliere il successore del Presidente Mattarella a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni con serietà, passione e dedizione. Il compito che avremo non sarà semplice, trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della Costituzione, di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani, un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelli doti morali che sono fondamentali per fare il Presidente della Repubblica. Poi in aula ho scoperto, ascoltando le parole delle colleghe del Movimento 5 Stelle che avrebbero dato un voto di preferenza al Presidente del Consiglio regionale come rappresentante di tutta l'Assemblea legislativa. Le ringrazio, come ringrazio tutti i colleghi consiglieri, sia quelli che mi hanno votato di maggioranza e quelli di opposizione che hanno votato per il portavoce Marco Landi e loro un anno e due mesi fa non mi avevano votato come Presidente del Consiglio regionale. Credo che sia il segno di un'attenzione, di un rispetto istituzionale importante e anche dell'attenzione che io ho provato a avere sempre verso tutti, sia chi mi aveva votato, sia chi non mi aveva votato. Il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli Italia. Il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana ma anche venendo dall'isola d'Elba tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. È un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere. Cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile. Dopo mesi di conflittualità interna, la consigliera regionale Elisa Tozzi decide di lasciare la Lega per aderire al gruppo misto. Lo scacchiere delle destre in regione toscana quindi rimane così composto. Sette consiglieri per la Lega, cinque per Fratelli d'Italia ed una Forza Italia. Ci sono questioni che purtroppo riguardano la maturazione del partito e questa maturazione in termini di contenuti, magari meno like, meno personalismi ma forse anche più guardare anche alle qualità, al merito, alla prospettiva ecco su questo poi dopo alcuni equilibri si rompono perché poi le visioni cominciano ad essere diverse. Io credo invece che oggi la politica debba andare nella direzione di recuperare credibilità soprattutto in un momento difficile come questo. Quindi la sfida grande è quella soprattutto di riuscire a ridare una speranza alle persone in una fase, diciamo, difficile come quella che stiamo vivendo. Questa è la grande sfida. Se non la si coglie ma si preferisce rimanere all'interno di un orticello sicuro ecco, allora è lì che comincia, diciamo, ad inclinarsi un equilibrio. Uno sforzo in più io credo che andasse fatto in questo anno. Questo sforzo non è stato possibile portarlo avanti ed è evidente che chi crede invece nella necessità di un profondo rinnovamento della politica, di un percorso che deve portare a concretezza che deve superare anche nell'ambito del centro-destra io credo quella contrapposizione ideologica che troppo spesso porta la coalizione di centro-destra a non porsi in modo innovativo rispetto a ciò che invece potrebbe essere in Toscana. Questi sono un po' i motivi che mi hanno poi spinto a questo passo che, ripeto, non è stato semplice ma che è maturato all'interno di tutta una serie di riflessioni che poi ecco si sono rivelate, come dire, alla fine di rimenti per fare questa scelta di campo. In discussione in consiglio alcune mozioni che riguardavano il PNRR passa il sì alla semplificazione ITER ed il sì all'apporto delle fondazioni bancarie respinta una terza mozione invece che chiede un fondo di rotazione per i comuni Respinta una terza mozione invece che chiedeva un fondo di rotazione per i comuni Fratelli d'Italia ha convintamente votato a favore delle tre mozioni relative oggi al PNRR al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo chiesto noi l'accorpamento della discussione perché non c'è tempo da perdere le scadenze cominciano ad essere imminenti gli enti locali, le imprese, i cittadini hanno il diritto di avere regole chiare, trasparenza e possibilmente le risorse per non perdere occasioni storiche per la nostra comunità per questo abbiamo votato anche sì al coinvolgimento delle fondazioni bancarie nella progettazione degli interventi per il PNRR abbiamo votato sì all'istituzione di un fondo rotativo che aiuti gli enti locali ad avere le risorse necessarie soprattutto i comuni più piccoli che magari sono in difficoltà con il personale abbiamo votato sì alla semplificazione burocratica questo non vuol dire come il Partito Democratico ha inteso fare demolire le varianti urbanistiche e andare a consumare nuovo territorio senza criterio ma vuol dire invece far durare il giusto le procedure amministrative mettere il personale nelle condizioni di lavorare al meglio digitalizzare la pubblica amministrazione perché i passaggi siano pochi e chiari e fatti bene è il momento di agire, la Toscana ci arriva con il fiato corto con tante troppe regole, con tanti troppi uffici, con tante troppe burocrazie per questo noi con responsabilità abbiamo votato a favore di queste tre emozioni ci aspettiamo che la Giunta sappia mettere in campo le dovute scelte durante la seduta consigliare del 19 gennaio presidio sotto palazzo del Pegaso ed alcuni lavoratori di Toscana da porti che chiedevano di definire un percorso per la stabilizzazione dei part time visto il loro indispensabile ruolo per lo svolgimento dei servizi all'interno degli scali di Pisa e Firenze e che viene atteso da lungo tempo Sono scesa a portare la mia solidarietà e il mio saluto al presidio dei lavoratori degli aeroporti di Pisa e Firenze che stanno manifestando per la disattenzione che è stata riservata ai lavoratori part time ciclici verticali degli aeroporti che sono stati pesantemente colpiti dal blocco dei voli della prima ondata pandemica e che ancora aspettano perlomeno un ristoro dei danni che hanno subito Un ristoro che è tanto più dovuto quanto più la regione si è impegnata invece a fronte del danno ricevuto da Toscana Aeroporti con 10 milioni di euro lo scorso anno Ho presentato una mozione nel mese di ottobre, un'altra mozione per i lavoratori dove si chiedeva che venissero ristorati a titolo di una tantum per il periodo del covid in cui non hanno lavorato questi lavoratori è un'iniziativa che è stata presa anche da altre due regioni e non ha problemi di legittimità dal punto di vista degli aiuti di Stato quindi è fattibile nello stesso tempo di avviare un percorso di formazione per tutti i dipendenti in modo da renderli in grado di coprire altri incarichi o altro lavoro all'interno degli aeroporti cosa che era stata promessa anche precedentemente con un altro atto dall'assessore Anardini e infine un'attenzione particolare per quanto riguarda le norme su parta in ciclici verticali che dovrà essere chiesta allo Stato Io l'ho sollecitata ai colleghi della maggioranza, lo solleciterò anche alle opposizioni perché ci terrei che come segnale a questi lavoratori che sono sotto al freddo a rivendicare i loro diritti venisse portata l'approvazione di questa mozione come piccolo risultato un segnale di attenzione verso di loro che secondo me è veramente il minimo che questa giunta può fare Grazie a tutti